Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio dal titolo Filologia Dantesca, un'introduzione di Marco Grimaldi, che abbiamo l'onore e il piacere di ospitare. Sono 176 pagine per 18 euro, appena pubblicato da Carocci Editore e quindi facilmente reperibile e anche di prezzo economico. Io come mia abitudine non rubo altro tempo al nostro ospite al quale do subito la parola per introdurci in questo mondo della filologia e quindi a lei professore la parola. Molte grazie, molte grazie per questa bella occasione. Dunque il libro che stiamo presentando, presentando Filologia Dantesca, nasce essenzialmente da un'esigenza didattica. Io insegno a Roma in sapienza filologia italiana e da alcuni anni ho deciso di tenere dei corsi dedicati prevalentemente a Dante Alighieri. Questa è una scelta non mia esclusiva in molti corsi di filologia italiana per ragioni in parte ovvie e in parte da analizzare, ed è quello che vorrei fare in questa chiacchierata, si sceglie di concentrarsi proprio sulla tradizione delle opere di Dante Alighieri. Esiste un eccellente, autorevolissimo manuale di filologia dantesca realizzato da un importante filologo che è scomparso recentemente, Saverio Bellomo, che si intitola Filologia e Critica Dantesca, che finora ha rappresentato il modello più diffuso in quasi tutte le università nelle quali si tengono e si tenevano corsi di filologia italiana dedicati a Dante. Tuttavia c'era il bisogno di, da un lato, di aggiornare, perché gli studi danteschi, come gli studi di italianistica in generale, sono in forte sviluppo e in mutamento continuo, e dall'altro sentivo, dopo alcuni anni di didattica, l'esigenza di una impostazione leggermente diversa rispetto al manuale già esistente, che rende questo prodotto, la mia filologia dantesca, complementare in qualche modo rispetto a quest'altro libro e innovativo per vari altri aspetti. Tuttavia nel corso della scrittura mi sono reso conto che potevo cogliere l'occasione anche per proporre una guida, una guida rivolta non solo agli studenti universitari, ma più in generale a un pubblico colto, diciamo pure, di persone generalmente interessate a Dante e alla filologia, che volessero avere uno strumento in grado di, appunto, di guidarli nella complessità, nella rara complessità della tradizione delle opere, delle opere di Dante. E quindi il libro è essenzialmente indirizzato agli studenti universitari, ma può, credo, utilmente essere utilizzato anche da chiunque voglia avere un quadro generale, ovviamente non un quadro esaustivo, perché lei ricordava un libro di meno di 200 pagine. La filologia e gli studi danteschi sono multiformi e ormai sovrabbondanti da molti decenni, era impossibile fornire con queste misure un quadro esaustivo. Il libro è molto aggiornato, la bibliografia è aggiornata alle ultime uscite, però è evidentemente uno strumento di sì sintetico. su molte questioni ho dovuto, come si dice, tagliare con l'accetta, su altre ho dovuto sorvolare per ovvie ragioni, però l'ambizione è quella di aver offerto un panorama comunque, un panorama comunque completo. E ho avuto già immediatamente il riscontro abbastanza positivo, perché ad esempio mi hanno scritto professori delle superiori interessati a questo libro, ovviamente non per sottoporlo ai propri studenti sarebbe impensabile, perché quegli studenti non hanno ancora le competenze necessarie, ma può essere usato dai professori dei licei, delle superiori in generale, per proporre ai loro studenti, se loro vorranno, un percorso alternativo all'interno dell'opera di Dante, un percorso che non sia solo letterario, ma che sia anche filologico. E veniamo quindi alle ragioni di questo libro e alla natura del libro. Perché la filologia dantesca e perché scegliere di parlare di filologia attraverso Dante? Ci sono varie ragioni. Innanzitutto una è scontata, vale a dire l'autorevolezza di Dante. Ragion per cui studiare i vari modi in cui gli studiosi di Dante sono giunti a stabilire i testi critici delle opere, i modi in cui hanno affrontato la complessità di una tradizione nella quale non esistono autografi, perché noi non possediamo autografi. Una tradizione che per alcune opere conta centinaia di testimonianze manoscritte, come per la commedia o anche per le rime, oppure molte decine, per la vita nuova o la monarchia. Una tradizione fatta di testi sia in italiano, come tutti sanno, ma anche in latino. E soprattutto una tradizione di lunghissima durata, perché della commedia, delle rime, ci sono state centinaia di copie manoscritte, molteplici edizioni a stampa e fin da subito, diciamo pure, fin da quando esiste una disciplina filologica e da quando la filologia si dota di strumenti moderni, le opere di Dante sono state uno dei terreni privilegiati sui quali i filologi si sono esercitati. Accanto alla Bibbia, accanto ai grandi classici della latinità e del mondo greco, accanto ai trovatori, anche le opere di Dante sono state, per loro interesse e per la loro complessità, al centro della riflessione dei filologi in epoca soprattutto, ovviamente, moderna e poi contemporanea. Si può dire quindi che studiare i problemi filologici delle opere di Dante, nel loro complesso, sia un modo per ripercorrere l'evoluzione stessa dei metodi e dei modelli filologici. E questo è uno e un altro dei motivi di interesse di un libro di questo tipo e ovviamente della filologia dantesca in generale. Questo in fondo è il motivo per il quale, come dicevo all'inizio, in molte facoltà di lettere, quando si deve fare un corso di filologia, di fatto si fa un corso di filologia dantesca, perché attraverso Dante si riescono a enucleare problemi molto diversi, opere estremamente differenziate tra di loro, tradizioni complesse, problemi sempre nuovi e soprattutto estremamente degni di interesse, perché evidentemente sapere se Dante nella commedia ha scritto un verso in un modo o l'ha scritto in un altro è una questione che ci interessa moltissimo, come per esempio, perché si tratta pur sempre di problemi filologici, ci interessa molto sapere se Dante ha scritto la cosiddetta epistola cangrande della scala, l'epistola 13, perché se l'ha scritta ci sono tutta una serie di conseguenze per l'interpretazione del poema, se non l'ha scritta i problemi sono altri, oppure se Dante ha scritto il fiore, questo interessantissimo poimento che se attribuibile a Dante offrirebbe di Dante una fisionomia stilistica completamente diversa da quella di un Dante che non ha scritto anche questo poema comico e allegorico che è assolutamente un unicum nel panorama della letteratura italiana del del duecento. E queste sono le caratteristiche, le caratteristiche generali del libro. Il libro per queste ragioni è articolato in tre parti che fanno sì che appunto la struttura, che danno diciamo la misura dell'originalità della struttura di questo libro, perché il lettore troverà prima di tutto un primo capitolo più breve degli altri dedicato ai caratteri fondamentali delle varie opere. Vale a dire opera per opera, partendo dalla vita nuova e dalle rime, che sono quelle ragionevolmente più antiche, anche se Dante ha scritto poesie liviche fino agli anni della naturità, fino alla commedia, che è nell'opera alla quale presumibilmente Dante lavora fino agli ultimi momenti della sua vita o poco prima, si ripercorrono le questioni fondamentali ovviamente dal punto di vista filologico. Che cosa vuol dire? Questo è una delle caratteristiche che fanno di questo libro uno strumento non per tutti. Vuol dire che non spiego la trama della commedia, dando in qualche modo per scontato che i lettori interessati alla filologia dantesca sappiano come comincia e come finisce la commedia. Mi dilungo un po' sulle opere, un po' di più, sugli aspetti letterari delle opere meno note, che non rientrano diciamo pure nel canone scolastico come le egloghe ad esempio, oppure la monarchia per alcuni aspetti. Sulle opere che tutti dovrebbero conoscere usciti dalle scuole superiori, diciamo non mi dilungo troppo sugli aspetti letterari se non in funzione dei problemi filologici. Quindi opera per opera si spiegano, si descrivono i caratteri fondamentali. Quanti manoscritti, dove sono stati prodotti, quali sono i manoscritti più importanti, qual è la struttura dell'opera se questo elemento è funzionale a spiegare alcune questioni filologiche, qual è lo stato degli studi, quali sono le edizioni principali e se ci sono ad esempio problemi di attribuzione. C'è poi una seconda, ovviamente per alcune opere, per esempio la commedia, questa parte introduttiva è più vasta, più vasta perché la commedia, magari lo diciamo tra poco, ha tutta una serie di problemi peculiari e quindi questa prima parte introduttiva è necessariamente più vasta. C'è poi una seconda parte che si intitola Storia della tradizione, questo è forse l'aspetto più innovativo di questo libro, che fa il paio con la terza parte che si chiama Critica del testo e prassi editoriale. Forse qualche ascoltatore in queste due definizioni riconoscerà il titolo di un famosissimo volume di Giorgio Pasquali, vale a dire la Storia della tradizione e critica del testo. Ho scelto l'intitolare così questi due capitoli perché affrontano due grandi questioni fondamentali per gli studi di filologia moderna. Da un lato la storia della tradizione, cioè le dinamiche storiche del testo da quando è stato prodotto o da prima che il testo è stato prodotto fino a quando si è giunti alle edizioni moderne. Quindi dove sono stati prodotti i manoscritti, dove sono state pubblicate le stampe più importanti, chi sono stati i copisti principali, quali sono state le dinamiche peculiari di quella tradizione. Per esempio, ecco, mettiamo, si dirà subito che la monarchia, testo pericoloso per Dante, ha avuto una circolazione prevalentemente in ambiti imperiali che hanno costituito il contraltare della precoce scomunica e condanna del trattato da parte dell'istituzione ecclesiastica. Della commedia si spiegherà come fin dai primissimi anni, subito dopo la morte di Dante, già esiste una tradizione di commentatori che annotano, chiosano, spiegano il testo di Dante, che a Firenze quasi subito dopo la morte di Dante ci sono già dei circoli di intellettuali, li possiamo chiamare così, forse un po' anacronisticamente, ma di fatto è quello che accade, che raccolgono le opere di Dante, le spiegano, le trascrivono, le raccolgono e via dicendo. E questa è la storia della tradizione. La filologia moderna, appunto dopo gli studi di Pasquali e in Italia, di Barbie e di altri, ha compreso che quello che ci interessa dei manoscritti e dei nostri copisti non è soltanto la loro possibilità di restituirci il testo più vicino possibile all'originale, ma quei copisti, quei manoscritti ci interessano in quanto documenti storici, ci interessano perché raccontano la storia del testo, come il testo ha viaggiato nel tempo, fino a noi. E questo è il capitolo di storia della tradizione. E poi ovviamente c'è il capitolo, c'è l'altro polo, dicevo, la critica del testo, che è quello, diciamo, dal punto di vista degli studi filologici più rigoroso e più caratteristico, vale a dire i metodi e i modelli attraverso i quali i filologi hanno cercato di stabilire il testo di queste opere così importanti per le quali non esiste neanche un singolo originale. E quindi evidentemente si pongono tutti i problemi più classici, più tipici della ricostruzione dei testi in assenza di originale. E in questo terzo capitolo, critica del testo e prassi editoriale, si procede non più per opera, ma per problemi, provando a verificare come questi problemi sono stati affrontati dai vari editori e dai vari studiosi di Dante. Faccio qualche brevissimo esempio. C'è un capitolo dedicato a come si fa una collazione. Ora, chi ha fatto studi filologici sa che il primo passo in modo da compiere dopo aver censito i manoscritti o le testimonianze di un'opera, quale che sia, d'accordo, che si tratti del Deum Naturia di Lucrezio, che si tratti delle neide o che si tratti della commedia, è quello di effettuare una collazione, cioè quello di confrontare sistematicamente tutti i testimoni di un'opera. Ora, i modi per effettuare una collazione sono moltissimi, ma non è neanche un solo metodo, perché dipende dalla natura della tradizione e dalla natura della tradizione dalle finalità e dalle possibilità dell'edizione che si sta realizzando, perché capita talvolta che si abbia a che fare con tradizioni molto ampie, di testi molto estesi, per i quali magari non vale la pena perdere 20-30 anni per riuscire a realizzare un'edizione critica che abbia davvero collazionato tutti i singoli manoscritti. Ma magari c'è l'urgenza di fornire un testo leggibile e quindi magari si effettua una collazione solo parziale. È legittimo, non è l'ideale, ma è pur legittimo. Per la commedia il grande problema è stato proprio questo. Le prime edizioni filologicamente moderne, diciamo pure, procedevano, tendevano a delle collazioni complete, quindi al confronto di tutti i manoscritti, che è uno dei principi basilari della filologia moderna, che supera i canoni della filologia umanistica e di tutte le prassi filologiche precedenti, proprio da questo punto di vista, perché non sceglie il manoscritto più antico, il manoscritto più importante o il manoscritto più corretto, ma confronta l'insieme dei testimoni di una determinata opera. Ebbene, per la commedia, dato che possediamo molte centinaia di manoscritti, le prime edizioni moderne hanno dovuto compiere delle colazioni parziali, quindi solo di una parte dei manoscritti, oppure colazioni complete, magari di un solo canto. E sulla base di quella collazione hanno provato a ricostruire i rapporti tra i vari testimoni. E quindi nel paragrafo dedicato alla collazione si parla soprattutto dei metodi seguiti dagli editori della commedia per provare a raggiungere una classificazione dei testimoni della commedia. Oppure, altro piccolo esempio, si parla in generale del problema della restituzione della veste formale. Ora, è cosa abbastanza nota, ed è comunque un'esigenza della firologia moderna che per i testi volgari, quindi italiani, ma anche trovadorici, francesi, eccetera, eccetera, se ci sono delle procedure specifiche per la sostanza del testo, ci sono delle altre procedure, invece per quanto riguarda la forma del testo, quindi la lingua del testo. Se vogliamo sapere cosa Dante ha scritto, se Dante ha scritto vita o viaggio, evidentemente dovremo, staremo parlando della sostanza, ma se dobbiamo sapere se Dante ha utilizzato una forma tipica della fine del 200, o ha utilizzato una forma più avanzata, o magari una forma di un'area linguistica periferica, ecco, dovremo fare degli altri ragionamenti. Ebbene, in questo paragrafo si discute delle scelte che sono state compiute dai principali studiosi di Dante e si mostra come un'esigenza avvertita da più parti e da studiosi molto autorevoli, come per fare un solo esempio, Giorgio Inglese, anzi due esempi, Giorgio Inglese e Luca Serianni, oggi si ritiene comunemente, non lo ritengono tutti, è una delle questioni sulle quali ho preso posizione, che si debba scegliere il più antico testimone di aria fiorentina per stabilire quella lingua che non è ovviamente la lingua di Dante, ma è la veste linguistica ragionevolmente meno distante dalla lingua del poeta. Ripeto, non abbiamo autografi di Dante, a differenza di quanto accade per Boccaccio o Petrarca o Francesco da Barberino e altri coevi, diciamo pure, dello stesso, insomma, dello stesso, dei stessi secoli, ma appunto, e per questo dobbiamo basarci solamente sulle testimonianze manoscritte. Questi sono i tre capitoli, poi ovviamente c'è per esempio un capitolo dedicato a come si dimostra l'esistenza dell'archetipo, grande problema degli studi filologici. La scelta in questi due capitoli è quello di procedere per grandi problemi, quindi di mostrare per la prima volta, credo, a livello manualistico, ovviamente, perché sono tutte nozioni note agli specialisti, come molte delle principali questioni della filologia dantesca sono strettamente intrecciate tra loro. C'è un esempio che mi piace fare, se posso rubare ancora un pochino qualche minuto, che è quello di Giovanni Boccaccio. All'interno del capitolo sulla storia della tradizione c'è un paragrafo molto lungo, forse il più lungo di tutto il libro, che è dedicato appunto a Giovanni Boccaccio. Perché? Perché Giovanni Boccaccio non è stato solo l'autore del Decamerone, non è stato solo l'autore di altre importanti opere che sono rimaste a lungo nel nostro canone letterario. Non è stato solo l'amico di Petrarca, non è stato solo il limitatore di Dante, ma è stato anche, ed è forse, e dal suo punto di vista tutti questi aspetti non erano distinti, è stato anche un copista delle opere di Dante. Quindi alcune delle copie della Commedia, della Vita Nova, delle Rime, delle Epistole e dell'Egloria di Dante si devono appunto a Giovanni Boccaccio. La devozione di Giovanni Boccaccio nei confronti di Dante si traduce, come dicevo, in una filiazione letteraria. Il libro cognominato Galeotto, eccetera, eccetera, tutto quello che sappiamo dalle scuole, ma si traduce anche in una paziente continua, attenta, attenta per, diciamo, il suo tempo, opera di copia delle opere dantesche. E questa opera di copia si è testimoniata attualmente per quello che rimane, perché ovviamente come per gli storici, per i filologi c'è il problema di basarsi sulle testimonianze che sono rimaste, e il deterioramento, la deperibilità di queste testimonianze è in realtà molto alta, accade molto di frequente, che si perdano delle testimonianze, quindi noi ragioniamo su quello che c'è, si traduce in alcuni manoscritti che non contengono una sola delle opere di Dante, mettiamo la commedia, o le rime, o la vita nuova, ma si traducono, si traduce quest'opera di copia delle opere di Dante, si traduce in alcuni manoscritti nei quali Boccaccio prova già a organizzare un canone delle opere di Dante. Boccaccio sta già ragionando nell'ottica di proporre Dante come modello letterario, come classico, potremmo dire, e procede ad una equiparazione di Dante e Alighieri ai grandi classici, come ad esempio Virgilio, nel proporre un'idea di libro monografico, tutto dedicato ad un autore e introdotto da alcuni apparati esegetici, perché a questi codici, nei quali Boccaccio copia le opere principali di Dante, ripeto, la commedia, la vita nuova e le rime soprattutto, Boccaccio aggiunge il cosiddetto trattatello in laude di Dante, che è la prima organica strutturata vita di Dante, alla quale dobbiamo moltissime informazioni importantissime, imprescindibili e uniche sulla vita e sull'attività letteraria di Dante, che Boccaccio sceglie di premettere o comunque di collocare all'interno di questi manoscritti. Lo fa perché Boccaccio sta ragionando già nell'ottica di proporre ai suoi lettori un canone dantesco. In qualche modo, all'epoca, è proprio con Boccaccio che Dante comincia a trasformarsi in classico. C'è un altro fenomeno, ma che è strettamente intrecciato a questo, che pure nel manuale viene affrontato in vari punti, e che è la questione degli antichi commenti alla commedia. Probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori sanno che la commedia è stata, come dicevo prima, tra l'altro, commentata fin dalle primissime fasi della sua circolazione. I commenti odierni, scolastici, sono gli eredi di questa tradizione. Non ci dobbiamo stupire del fatto che in tutte le scuole Dante si legga annotato, perché Dante, la commedia, la commedia essenzialmente richiede un commento. Il commento è inseparabile dal testo stesso, perché il testo vuole essere difficile, vuole essere criptico, vuole essere oscuro, vuole essere compreso in tutti, in tutte le sue stratificazioni, solo da alcuni. È un testo aperto a tutti, ma solo alcuni possono coglierne tutti i livelli, evidentemente. Dante chiede ai suoi lettori uno sforzo, uno sforzo che si traduce in questa opera precocissima di commento. Ebbene, un manuale di filosofia dantesca non può non parlare anche della tradizione dei commenti, perché i commenti antichi sono la prima traccia della ricezione dantesca e soprattutto, anche di questo parlo nel capitolo sulla storia della tradizione, il testo della commedia, il poema, viaggia solo di grado da solo. Molto spesso, molto più spesso di quanto si pensi, la commedia viaggia assieme a un commento, oppure assieme a una serie di poemetti in versi, che sono però dei poemetti didattici, che illustrano il contenuto o il senso della commedia. In qualche modo la commedia è un centro di gravità attorno al quale si organizzano tutta una serie di di opere. Il viaggio del testo della commedia è solo veramente un viaggio appunto un viaggio solitario, più spesso è il viaggio di un testo che attiva a sé, porta con sé commenti, glosse, immagini, perché esiste anche una tradizione di commenti figurati e di illustrazione del testo della commedia, che è antichissima e che continua come si sa tuttora. Solo un'ultima cosa, il manuale dicevo è, questo libro è una sintesi, ecco, per un aspetto avrei voluto, e forse lo farò se ci sarà una seconda edizione, ampliare uno dei uno dei paragrafi, uno di quelli finali, che è dedicato a Dante nel mondo di internet, nel Dante digitale, diciamo pure. Non se ne può, non si, insomma, non potevo evitare di parlarne perché evidentemente è anche per Dante, come in generale per gli studi letterari, il internet e in generale le nuove, ma nuove da molti decenni, tecnologie hanno mutato le carte in tavola. E ovviamente si sono moltiplicate le risorse, si sono moltiplicate le bibliografie online, l'accessibilità di testi, immagini, le banche dati dedicate a Dante. Esiste però in realtà solo, finora almeno, una sola edizione della commedia che è nata digitale, born digital, come si dice, che è l'edizione curata da una studiosa inglese della monarchia di Dante. Ma è un campo in espansione, ci sono molti progetti ed è quello sul quale dovremo necessariamente noi dantisti, noi filologi italiani, noi studiosi di storia della letteratura, ragionare maggiormente. Questo libro si occupa solo lateralmente di questo aspetto, ma prova comunque a, ancora una volta, tracciare un filo all'interno del mondo del digitale. All'insegna, e questa è la ragione per la quale volevo concludere su questo argomento, all'insegna di un principio metodologico però. Quello che risulta con più evidenza dallo studio complessivo della tradizione delle opere di Dante è la necessità di tendere alla ricostruzione dei testi. Una frase di Gianfranco Contini che a me piace citare molto spesso ai miei studenti è il ricostruito è più vero del documento, che significa che non ci si deve illudere e non si storici né gli storici della letteratura, che i documenti siano veri di per sé. I documenti vanno sottoposti a critica, vanno analizzati, interiorizzati, come diceva Gianfranco Contini, e questo vale anche per la tradizione delle opere antiche e per la tradizione delle opere di Dante. Noi abbiamo molti documenti, il digitale ci potrebbe illudere della possibilità che pubblicare tutti i documenti o tutti i manoscritti di Dante online sia la scelta giusta, ma sarebbe un'illusione, perché tutti quei documenti vanno sottoposti a critica ed è quello è il lavoro del filologo, che razionalizza, classifica e fa ordine in tradizioni che sono spesso molto ampie, vorticose o complesse e offre ai lettori una ipotesi di testo. Offre non la realtà del testo, perché di che cosa ha scritto davvero Dante non sappiamo nulla, perché non abbiamo degli autografi, ma offre il testo il più vicino possibile, o meglio, il testo ipoteticamente più vicino possibile alla verità del testo dantesco, senza illudersi, di poter raggiungere definitivamente quella verità. Il ricostruito è più vero del documento, questo vale per la filologia cartacea di Piace, diciamo, e vale anche per le evoluzioni più moderne della filologia digitale applicata alle opere di Dante. Ecco, non so se... Sì, no, no, è appassionante. Io ho una curiosità, una piccola curiosità, magari nemmeno troppo intelligente. Noi abbiamo un primo manoscritto con datazione certa della commedia. Dunque, allora, ci sono vari primi manoscritti, o meglio, per Dan, come dire, ci sono varie risposte possibili alla sua domanda, che non è una domanda stupida, anzi è una domanda molto interessante, perché ci sono, sì, alcuni dei manoscritti più antichi che sono i manoscritti più organici, più antichi, che sono databili attorno al 1334-1335, non mi dilungo in, insomma, in sigle, eccetera. Ma quello che è interessante è che prima di questi manoscritti organici, quindi manoscritti che contengono la commedia per intero, e sono databili circa una decina di anni dopo la morte di Dante, evidentemente, esiste una tradizione più antica, una tradizione in vita, che la commedia circola già quando Dante è ancora vivo. Prima ho alluso per un attimo a Francesco da Barberino, che è l'autore di questo poema allegorico, i documenti d'amore di grande importanza nella storia letteraria italiana, anche se rappresenta in qualche modo un'idea di letteratura allegorica che Dante supera, di cui Dante fa piazza pulita, di cui la commedia in qualche modo cancella e sposta via dal nostro canone letterario. Ebbene, proprio attraverso i documenti d'amore di Francesco da Barberino, sappiamo, perché dei documenti c'è un autografo, questo autografo è irragionevolmente databile, sappiamo che già attorno alla metà degli anni dieci, 1315-16, si sapeva che Dante stava componendo un poema sui regni ultraterreni, dove veniva celebrata la figura di Virgilio. Quindi, e qualche mese dopo, anni dopo, compaiono notizie di alcuni manoscritti perduti, oppure compaiono frammenti della commedia, e sono tutte tracce che ci fanno, rendono consapevoli della, o meglio, che ci rendono evidente che la commedia circolava, parti della commedia, per canti forse, o per gruppi di canti che circolavano quando Dante era ancora in vita, quindi Dante componeva e faceva circolare alcuni pezzi, facendoli leggere alle persone che gli interessavano di più. Una data quasi certa per il manoscritto più antico in assoluto, manoscritto inteso come prodotto, come manufatto intero, in realtà c'è, ma non riguarda la commedia, perché ragionevolmente il più antico di questi manoscritti, precisamente databili, poi ci sono chiaramente manoscritti più antichi che si possono datare attorno a determinati decenni, è un manoscritto molto interessante, è un manoscritto cosiddetto Martelli XII, che molto probabilmente è datato al 1310 o giù di lì, che contiene non la commedia, ma contiene la vita nuova e le rime. Che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che Dante fino a una certa epoca, fino agli anni dieci inoltrati, fino alla metà degli anni dieci o forse un po' più avanti, è noto essenzialmente come poeta livico, come il poeta delle rime e della vita nuova. E solo dopo, quando la commedia viene conclusa e quando comincia a diffondersi, diventa evidentemente un'altra cosa, il poeta teologo, il poeta filosofo. Mettiamola così. Perfetto, mi ha tolto questa curiosità e le sono grato di questo, ma credo anche i nostri ascoltatori. Io non posso che invitare tutti a comprare il libro, anche se è un testo destinato soprattutto agli studenti universitari, però io credo che possa essere letto tranquillamente anche dai semplici appassionati, come sono molti dei nostri utenti. Quindi la ringrazio ancora tantissimo, ricordo il titolo, che è Filologia dantesca, un'introduzione, l'autore è Marco Grimaldi, che è stato nostro ospite, l'editore è Carocci, 176 pagine per 18 euro, quindi una spesa comunque non esagerata e anzi sopportabile quasi da tutti. Ricordo anche di continuare a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, dove trovate tutte le videoconferenze, presentazioni che abbiamo realizzato in questo ormai lunghissimo e forse finito anno e mezzo di pandemia, e sperando di tornare presto in presenza per poter avere il calore di un pubblico in sala e anche la possibilità di interloquire con domande e risposte che rendono tutto molto più vivace e accessibile. Ringrazio ancora il professor Grimaldi. Grazie a voi. E ci vediamo, ci sentiamo presto. Grazie ancora. Arrivederci. Buonasera. Grazie a tutti.